Ciao, sono Caterina, sono una guida abilitata alla città di Venezia. Mi trovo lungo il Canal Grande, la via d'acqua principale della mia città. Questa è Venezia. Una città ricca di storia dal fascino secolare. Ancora oggi ha molto da raccontare. Numerosi furono i protagonisti che la resero celebre in tutto il mondo. Oggi voglio parlarvi di un personaggio che è partito ragazzo ed è tornato adulto. Consolidò in maniera definitiva i rapporti commerciali tra l'Oriente e l'Occidente e è diventato addirittura l'ambasciatore del signore Decatai, i Kublai Kahn. Partito 17enne fece ritorno nella sua amata Lenezza d'età di 41 anni, portando con sé una discreta fortuna e una memoria storica trascritta nel suo capolavoro, Il Miglione, fonte di ispirazione per generazioni di viaggiatori ed esploratori. Vediamo se avete capito di chi voglio parlare. Buongiorno messer, vuole presentarsi? Il mio nome è Marco Polo. Quanto mi sei mancata Venezia mia! Nonostante mille pericoli e mille insidie, sono riuscito a raggiungere il Catai e a far ritorno nella mia amata isola. Molte sono le avventure e le meraviglie che mi hanno arricchito durante questo viaggio. Oggi vi invito a venire a Venezia per potervi raccontare cose che sembrano irreali, irreali o forse solo sogni. E chi è spinto a visitare luoghi sempre nuovi e sconosciuti vuole immergersi con noi in una nuova esperienza. Insieme a Fabio Moresco, attore e professionista veneziano, vi aspettiamo a scoprire con noi il mistero del tesoro di Marco Polo. Questo e molto altro ancora. Potete prenotare il vostro tour animato scrivendoci all'indirizzo che leggerete di seguito. E ricordate, questa è Venezia!